sono tutti amici da gianluca attanasio oggi vi presento questi occhiali che ho testato questa estate occhiali sportivi duco invita su amazon.it ultraleggeri alluminio lega di magnesio blocco tra i raggi un via un bb veramente molto leggeri ho chiesto questa polarizzazione grigio scuro davvero molto carini si indossano bene non volano via assolutamente sono ottime grande a correre per poter sciare anche l'automobile all'interno della scatola eccola qua ci spiega un pochettino quelli che sono gli sport che si possono praticare con questi occhiali senza incappare in danni perché gli occhiali comunque sono ben fissi alla testa abbiamo ovviamente anche la custodia fatta molto bene con un gancio molto utile la custodia all'interno aveva gli occhiali che già ho provveduto ovviamente a sfruttare ad utilizzare dalla scatola pezzolina classica esce un po da tutti gli occhiali custodia sintetica in nylon assolutamente sempre sei grafata duco ma la cosa comoda che ho trovato è questo piccolo kit di cacciaviti assolutamente comodo sia cacciavite a stella sia cacciavite italiano per poter regolare le viti di questi dei viti di questi occhiali e quindi anche poter utilizzarla per altri per altri usi quindi anche per altri occhiali che avete a casa questa comoda schedina che ci fa vedere un pochettino come funzionano questi occhiali perché se poniamo la nostra schedina un pochettino come quelle schede 3d dove se togliamo gli occhiali non si vedono le auto sulla strada vi faccio vedere ecco qua se mettiamo gli occhiali ovviamente le auto compaiono ma la mettiamo da parte che ci interessa poco quello che ci interessa è la comodità di questi occhiali se stanno bene comunque addosso ricordo lega di alluminio e magnesio ma anche un pochettino di gomma morbida che comunque fa bene perché non dà fastidio ricordo che sono ottimi anche per il sudore perché non crea un assorbimento dei residui della pelle all'interno degli agganci quindi molto morbide anche i tamponcini che poggiano sul naso gli occhiali stanno bene sono molto affusolati vanno bene con il vento vanno bene con gli sci assolutamente per chi va a correre bloccano i raggi solari quindi quei fastidiosi riflessi del sole posso dire che questi occhiali come rapporto qualità prezzo possono andare bene per lo sport li ho testati quest'estate proprio sotto all'ombrellone ovviamente non li ho portati in acqua perché in acqua ho lottato con gli occhialini ma posso assolutamente mi sento di poter consigliare questi occhiali perché ripeto il rapporto qualità prezzo ci sta quindi non è una somma enorme parliamo di 22 euro davvero erisoria chi volesse spiegare informazioni come sempre può farlo a gianluca punto attanasio goccia live.it il video verrà pubblicato su amazon.it all'interno del loro motore ma anche il mio canale youtube recensione italia che potete trovare direttamente sul canale youtube potete scrivermi io cercherò di rispondere a tutti quanti come faccio sempre quindi vi saluto ragazzi assolutamente conduco e andiamo ancora in vacanza grazie a tutti